Allora ragazzi, spero di non star male, no? No, che non stai male... L'importante è che ci dici, cioè... No, no, guarda! E ripeto, l'acqua? Grande! Dopo due anni mi porti a 4.000 Questa è l'acqua? 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 Questa è l'acqua... Non! Non! una volta pira no 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 No, 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 no. Alla Andiamo, andiamo Alla